Salve a tutti! In questo secondo video dedicato alle formule gognometriche vorrei analizzare la questione dell'angolo aggiunto e come poter studiare il grafico di una funzione lineare del tipo y uguale a seno di x più b coseno di x. In pratica noi possiamo ricondurre la funzione lineare a seno di x più b coseno di x a un'espressione del tipo r che moltiplica seno di x più alfa. Questo termine lo abbiamo già visto nelle formule di addizione quindi sappiamo come sviluppare seno di x più alfa. Questo alfa è proprio quello che viene definito angolo aggiunto. Sviluppiamo questo secondo membro che contiene la formula di addizione del seno e quindi scriviamo che r per il seno di x più alfa è uguale a r che moltiplica sen cos cosen quindi sen x cos alfa più cos x sen alfa ovviamente tutto questo moltiplicato per r sviluppiamo questo prodotto e otteniamo r sen x cos alfa più r cos x sen alfa. Questo primo membro affinché sia uguale a questo secondo membro deve soddisfare due cose ovvero il termine che qui è indicato con a che moltiplica sen x andiamo a cercare in questa espressione chi è e il termine che moltiplica sen x cioè a deve essere uguale a r cos alfa. Se facciamo lo stesso discorso con b b è il termine che moltiplica cos x e qui a secondo membro abbiamo r sen alfa che moltiplica cos x perciò abbiamo quest'altra uguaglianza. Ma noi non conosciamo r l'obiettivo qui è trovare r e alfa cioè noi vogliamo scrivere a seno di x più b coseno di x come r che moltiplica il seno di x più alfa ma per ricavare r lo facciamo facilmente da qui basta elevare entrambi i membri al quadrato e fare una somma membro a membro. Cioè qui scriveremo a al quadrato uguale r al quadrato cos quadro alfa qui scriveremo b al quadrato uguale r al quadrato sen quadro alfa e poi sommiamo membro a membro penso abbiate capito lo scopo qui c'è un cos quadro un sen quadro sappiamo cosa succede quando li sommiamo a al quadrato più b al quadrato è uguale a r al quadrato cos quadro alfa più r al quadrato sen quadro alfa cioè mettendo in evidenza r al quadrato abbiamo cos quadro più sen quadro dello stesso angolo e questo fa 1 cioè a al quadrato più b al quadrato è uguale a r al quadrato e allora quanto vale r? radice quadrata di a al quadrato più b al quadrato prendiamo il valore positivo perché noi stiamo cercando un valore positivo questa è una delle nostre richieste cerchiamo un numero positivo che ci consenta di scrivere la funzione di partenza in questa forma noto r come ricaviamo alfa e qui abbiamo due equazioni possiamo fare la seconda diviso la prima p diviso a primo membro secondo membro r seno di alfa diviso r coseno di alfa benissimo otteniamo che la tangente di alfa è uguale a b su a e quindi alfa non è nient'altro che l'arco tangente di b su a però attenzione quel valore può essere positivo o negativo dipende dal segno di a e dal segno di b infatti il segno di a è lo stesso di quello di cos alfa e il segno di b è lo stesso di quello di seno di alfa ma facciamo un esempio noi vogliamo scrivere sen x meno cos x come un generico r che moltiplica seno di x più alfa r è a al quadrato più b al quadrato sotto radice a è uguale a 1 b uguale a meno 1 perché qui c'è un segno meno quindi la radice quadrata di 1 al quadrato più meno 1 al quadrato ovviamente questo fa radice quadrata di 2 la tangente di alfa è b su a quindi è meno 1 su 1 che è uguale a meno 1 come abbiamo visto il segno di cos alfa è lo stesso di a il segno di sen alfa è lo stesso di b cioè qui abbiamo il seno di alfa negativo e il coseno di alfa positivo proprio perché b è negativo e a è positivo quindi seno negativo e coseno positivo siamo nel quarto quadrante qui abbiamo seno negativo coseno positivo la tangente essendo seno su coseno è negativa in effetti è negativa quindi l'angolo che stiamo cercando è nel quarto quadrante qual è l'angolo la cui tangente è 1 se parliamo di angoli positivi è la tangente di pi greco quarti e quindi quando è che è meno 1 quando abbiamo la tangente di meno pi greco quarti quindi alfa è meno pi greco quarti deve stare rigorosamente nel quarto quadrante cosa ce ne facciamo di questi due valori scriviamo che y uguale sen x meno cos x la possiamo vedere come radice quadrata di 2 per il seno di x più alfa quindi meno pi greco quarti abbiamo studiato le trasformazioni geometriche vi lascio qua su il link al video dedicato alle trasformazioni geometriche delle funzioni goniometriche e qui abbiamo una dilatazione verticale di valore radice di 2 e qui abbiamo una traslazione una traslazione con un vettore che ha componenti pi greco quarti 0 perché una traslazione orizzontale verso destra quando abbiamo x meno qualcosa la traslazione è verso destra di quel qualcosa quindi è una traslazione orizzontale di pi greco quarti verso destra e una dilatazione verticale di radice di 2 perciò se alla funzione seno di x che è quella disegnata in blu applichiamo queste due trasformazioni quindi una traslazione verso destra di pi greco quarti come vedete la funzione sen x interseca qui l'asse delle x nel punto 0 0 qui viene traslato di pi greco quarti quindi intersecherà qui e inoltre c'è anche una dilatazione di radice di 2 cioè il picco non si raggiunge più per un valore di y uguale a 1 ma per un valore di y uguale radice di 2 ragazzi io spero che il video vi sia stato utile se così non dimenticate di condividere l'esistenza del video del canale lasciate un like fate qualcosa di buono a voi non costa nulla io vi saluto vi ringrazio e alla prossima ciao